Un uomo di 70 anni di Marianopoli in provincia di Caltanissetta è stato condannato a tre anni di reclusione e 4.700 euro di multa. La pena è stata emessa dal giudice Lorena Santa Croce che ha inflitto all'imputato una punizione maggiore rispetto alle richieste dell'accusa. L'episodio incriminato risale al gennaio del 2018, quando nell'azienda agricola di Leonardo Lombardo, questo è il nome dell'uomo, i carabinieri hanno trovato una pistola e delle munizioni all'interno di un contenitore dove sono state riscontrate le sue impronte digitali. Da lì l'autorità giudiziaria ha dato il via al procedimento penale fino al rinvio a giudizio dell'uomo. Ora, a distanza di 5 anni, è arrivata la sentenza che ha confermato la sua responsabilità con la pena a tre anni di reclusione per detenzione e ricettazione di armi e munizioni.